cicloturiste e cicloturisti buon salve benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale eccoci di nuovo qua ad unconventional travelers il posto il luogo dove conosciamo le avventure di tanti ciclo viaggiatori in giro per il mondo oggi vi ho portato un ospite molto particolare che è qua di fianco a me claudio piani ciao claudio ha un'avventura ha fatto un'avventura molto interessante tra l'altro su una tratta che in pochi comunque al mondo fanno adesso lo conosceremo per bene vi invito nel frattempo ad iscrivervi al canale youtube se non siete ancora iscritti seguire anche il podcast spotify dove trovate anche la versione audio di questa chiacchierata e vi dico già che trovate in descrizione tante altre informazioni su claudio perché lui diciamo che ne ha ne ha tante da raccontare ma poi vedremo anche bene il progetto che sta portando avanti quindi adesso senza altri indugi claudio dici chi sei tutti i viaggi che hai fatto per tu sei un viaggiatore veramente incredibile e soprattutto l'ultimo che hai fatto in bicicletta che è il motivo per cui ti ho conosciuto anch'io perfetto intanto ciao a tutti ciao pietro grazie ma io mi sento intanto una persona fortunata perché dico sempre come se avessi avuto due vite fino a 27 anni la vita normale di un ragazzo che cresce in italia e poi a 27 anni ho scoperto sapevo di avere questa passione per i viaggi e ho deciso di licenziarmi e prendermi un anno sabbatico volevo arrivare in australia senza prendere aerei e quest'anno sabbatico poi in realtà si è si è trasformato in cinque anni di viaggio iniziato a viaggiare in paesi dove la vita costa poco poto viaggiare con poco a lavorare in nazioni dove guadagnavo tanti soldi in fretta infatti ho vissuto in australia ho lavorato lì ho vissuto in cina lavorato lì e ho iniziato a vivere una vita che ormai va avanti da 2014 da quando mi ero licenziato dove faccio generalmente un anno di lavoro e un anno di viaggio in giro quindi ho fatto prima appunto da milano all'australia con mezzi pubblici ho vissuto in australia ho risparmiato un po di soldi sono tornato in italia facendo l'autostop ma passando dal sud dell'asia quindi ho fatto queste due attraversate poi da lì ero tornato a casa dopo due anni e mezzo con più soldi di quando ero partito in australia in australia ero riuscito a guadagnare bene e lì è nata l'idea di continuare a farlo sono andato in cina ho vissuto un anno in cina dove allenavo pallacanestro e poi lì mi son detto che voglio una sfida diversa all'epoca aveva attraversato l'asia due volte con i mezzi pubblici in autostop e ho deciso di provare a fare la terza via in bicicletta che è stato un po l'ultimo viaggio appunto di cui parliamo oggi quindi praticamente dalla cina l'italia in bici tanta roba complimenti perché comunque è una vita che magari in tanti no sognano di fare quindi tu sei comunque la testimonianza che queste cose si possono fare ci sono persone che che le fanno ti chiedo però perché la bicicletta cioè nel senso comunque tu hai usato anche altri mezzi in tutti questi anni di viaggio come mai hai scelto la bicicletta tu prima mi hai detto scherzosamente ho perso l'aereo per ritornare a casa ho deciso vabbè dai allora lo faccio in bici ma è vero quanto c'è di vero in questa storia? No è per ridere in realtà volevo una sfida diversa insomma intanto mi sono innamorato dell'asia ho iniziato ad andare lì la sto visitando più che posso volevo fare una rotta diversa e appunto una sfida diversa quindi la prima volta che ho mezzi pubblici era stata complicata in autostop era stata un po più complicata la bicicletta era un po quella che mi dava intanto una libertà totale di movimento e poi era anche la sfida proprio di fare alto piano tibetano deserti eccetera esatto perché questa è l'altra particolarità non è tanto essere tornato dalla Cina che a me è interessato ma anche vedere il percorso che hai fatto che è molto particolare non è una tratta molto molto battuta tu mi hai detto che comunque hai incontrato qualcuno comunque lo incontravi però poca gente quindi dici magari un po nel dettaglio che tratta hai fatto quanti chilometri hai fatto e in quanto tempo dunque la tratta ho fatto quella che quella più facile in termini di visti e di catene montuose anche perché appunto era abbastanza inesperto di viaggi in bici e la tratta che non avevo fatto nei viaggi precedenti ho deciso di partire dal tibet per una per una cosa mia insomma per un progetto che avevo poi magari ne parleremo dopo e dal tibet sono andato prima nord verso don guan che è un'antica città sulla via della seta dove era passato Marco Polo lì ho intercettato la via della seta ho iniziato andare verso ovest poi è facile arrivi lì gira a sinistra tutta dritta ma è sempre dritta arrivi a Venezia non puoi sbagliare non puoi sbagliare e se ci sei passato da Venezia si si sopra arrivando dai Balcani quindi a Mar Nero la tratta è stata quindi Cina sono entrato in Kazakistan che mi dava la possibilità di star 30 giorni senza visto e quindi questo mi dava una gran mano perché potevo farla con comodo lì sono entrato in Uzbekistan ho fatto tutto l'Uzbekistan poi sono tornato in Kazakistan l'ultimo pezzo nave cargo sul Mar Caspio perché non potevo entrare in Turkmenistan che due anni prima ero stato espulso per una serie di questioni burocratiche adesso ce le dici ce le devi dire comunque apro e chiudo una parentesi cioè ci confermerai che i visti sono un casino atroce bisogna organizzarli alcuni si stanno un po' morbidendo tipo Uzbekistan Kazakistan altri sono rognosi la Cina sta diventando un visto difficile a ottenere Turkmenistan è quasi impossibile io nel 2016 quando lo feci in autostop avevo avuto la fortuna di avere il visto che è un visto di transito i cinque giorni per passare e la polizia in frontiera mi disse che dovevo uscire il primo possibile in Iran perché loro vogliono che esci ah ok cioè quindi loro ti dicono devi uscire gentilmente loro mi hanno detto io entravo dal confine nord mi hanno detto vai subito al confine sud ed esci no l'idea transiti il paese io ovviamente mi sono detto caspito al visto Turkmeno chissà quando mi ricapita ho iniziato a fare un po' di giri e il terzo giorno quando la polizia mi ha trovato che ero verso Merchi una città non sulla mia non sulla rotta per l'Iran mi hanno caricato in macchina mi hanno portato in Iran mi hanno buttato in Iran e mi sono trovato in Iran senza sapere dove ero non avevo soldi non avevo internet da due settimane insomma ero ero perso però è stato quindi questa fa parte cioè le disavventure che capite in viaggio ovviamente non è tutto rosa e fiori diciamolo ci sono anche le parti difficili ecco magari invece di questo viaggio in bicicletta dici qualche cosa che è successa che magari ti ha fatto pensare per un attimo se è successa no non ce la faccio cioè torno a casa con l'aereo oppure qualche momento no sai di difficoltà perché è un'avventura ma nel vero senso della parola nel senso voi siete dall'altra parte del mondo posso solo immaginare quanto sia difficile farlo poi in bicicletta è stato indubbiamente ci sono stati tanti momenti difficili e complicati anche perché la conformazione del percorso ho iniziato che ero in altura in altitudine insomma a 4000 metri sull'altopiano tibetano poi ai deserti poi è arrivato il freddo il vento la steppa che fai in Kazakistan 15 giorni da solo devo dire che ero partito molto motivato con l'idea di io mi sono detto o torno a casa in bicicletta o torno in ambulanza perché è successo qualcosa di serio ma non volevo né treni né macchine né aerei senza allenamento senza niente ero motivato probabilmente il mio fisico regge bene probabilmente di testa è andata bene avevo esperienza di viaggi quindi e quindi anche in momenti difficili non ho mai avuto scoraggiamenti esagerati però sì cioè a me viene in mente una sera un banale temporale in cima alle montagne del Tian Shan dove sei a 4500 metri va questo temporale dove c'è un fulmine ogni 30 secondi la tua bici è l'unico pezzo di metallo nei 600 chilometri dove vai potrebbe cadere veramente ti metti in tenda e inizi a pregare che non ti pigli un fulmine poi una notte sono arrivati i lupi quando ero in Kazakistan mi aveva fermato un minatore mi aveva detto vuk vuk e ho detto cos'è vuk poi avevo un vocabolariato vado a vedere italiano russo vuk lupo e quindi ho messo la tenda ok molto bene quindi sono successi sì 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 tempeste di sabbia invece il momento diciamo più difficile che ti è capitato ma il più difficile la tempesta di sabbia mi aveva rotto due raggi della bici posteriori non potevo ripararli e lì ero in Cina quindi ho dovuto fare autostop fino alla città dopo che erano tipo 7-8 ore di camion e tornare indietro con la ruota a posto quindi lì è stato un po' sei tornato indietro con la ruota a posto cioè raga questo è assurdo no capito quindi ok tanta roba ero proprio volevo farlo tutto eri settato sul io devo fare sta cosa cioè 7-8 ore quanto sono anche più di quasi mille chilometri in realtà era la strada il camion cioè un camion cinese che andava veramente a 60 all'ora però allora la strada era una stradaccia ok sì sì cioè quindi sei tornato indietro e sei riparito sì 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 pazzesco beh tempesta di sabbia ok tempesta di sabbia noiosa cioè è stata una rottura di scatole e poi momenti complicati io guardo la pelle d'occa solo a pensarci ho fatto un pezzo di steppa tra Bukhara che è una città in Uzbekistan e l'ultima città in Kazakistan Akhtau dove c'è il porto e lì in 1400-1500 km ci sono due villaggi quindi praticamente sei sempre da solo in mezzo a sto deserto e lì fai fatica perché hai il vento in faccia hai sete hai il sole contro le strade sono tremende però caspita quando poi li fai tu sei lì da solo e vedi i cavalli selvatici che corrono nella steppa i cammelli cioè da un lato ti senti veramente fragile perché è massacrante dall'altro ti senti un supereroe perché fai delle robe che dici e lì secondo me è stata sia la parte più difficile ma anche quella più bella soddisfacente mettersi di notte lì tiri fuori la tenda entri proprio nella natura perché appena cala il sole tu metti la tenda e ti lasci andare sei protetto dalle tenebre lì è stata la parte più brutta più difficile ma anche la più bella esatto questa era la domanda che poi ti volevo fare perché ok le parti difficili però c'è anche la soddisfazione secondo me è quella poi anche tante robe belle le città sulla via della Sieta insomma quando ti metti lì a guardare il tramonto questi minareti turchesi che diventano arancioni lì è spettacolare ma ok visto che tu avrai visto tanti tanti posti 8.300 chilometri 6 mesi di viaggio c'è un posto che tu hai incontrato sul tuo percorso che hai detto ma sai quasi quasi qua mi ci fermerei anche a vivere ma nel viaggio in bicicletta mi è rimasto molto a cuore il Kazakistan che è un paese veramente geograficamente anche bruttino perché è molto piatto ci sono poi delle belle montagne ma principalmente steppa però ha un fascino particolare per me non so come mai quindi quello sicuramente mi è mi è piaciuto molto e poi mi sono trovato bene in Georgia devo dire che dopo il Kazakistan volevo fare il 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 caucaso in questo viaggio e quindi lì ho fatto abbastanza bene la Georgia è un paese molto molto ospitale montagne molto belle tanta storia quindi lì sicuramente bello invece per tutti i miei viaggi i paesi che più mi hanno colpito a dire fermarmi mi è piaciuto un sacco il nord dell'India il nord ovest si chiama Ladakh è una provincia dove ci sono tutti i buddhisti e lì secondo me per me è uno dei posti più belli al mondo e poi la Cina mi è piaciuta tant'è vero che avevo deciso di fermarmi lì per questa evoluzione sfrenata che ha ma ancora immersa in una cultura che è totalmente diversa dalla nostra davvero e poi tu eri partito dalla zona del Tibet sì sì quindi ok immagino che siano cioè dei posti assurdi sì la Cina poi ha questa roba che è l'estensione c'è una varietà etnica culturale geopolitica che insomma veramente vai da spiagge tropicali a 7000 metri di montagne deserti foreste rigogliosissime puoi trovare di tutto sì sì ed è veramente è incredibile anche perché poi appunto ci siamo passati noi occidentali prima di scoprire l'America poi abbia scoperto l'America e siamo andati di là quindi si è creato un posto un po' sospeso ancora nei contatti che ha con l'occidente no molto meno globalizzato rispetto ad altri posti quindi quello secondo me l'ha reso crede anche molto immagino la sua identità sì 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 però esatto questa è una cosa che mi riuscita in mente adesso rapporti con le persone comunque tu sei un europeo bianco molto lontano da casa 8000 km sono tanti come si entra in rapporto con persone che sono così lontane dalla tua cultura però al tempo stesso vedono che stai viaggiando in bicicletta quindi penso che siano persone magari specialmente nelle aree più rurali abituate a ospitare abituate ad accogliere che ricordi hai di questi momenti la prima volta che mi è capitato è quando ero in Mongolia il primo viaggio che mi trovai a vivere con dei pastori che avevano questi jaccher o nel deserto del Gobi avevamo le tende le guerre e lì me l'ho trovato a vivere con questa famiglia dove nessuno parlava inglese e non parlavo mongolo e lì avevo capito che nonostante questo era come se ci fosse un linguaggio animalesco tra noi esseri umani dove anche se le parole sono diverse il linguaggio verbale è diverso sorridere una pacca sulla spalla dimostrarsi gentili veramente è un linguaggio che capiscono in tutto il mondo universale sì e quello anche in bici quando avevo bisogno durante l'autostop veramente bastava un sorriso bastava dimostrarsi gentili curiosi generosi al mondo le persone piccole quelle che vanno al lavoro tutti i giorni sono sempre quasi sempre buone generose poi ci sono i problemi politici economici religiosi però quelli che incontri in strada io ho veramente autostop mi hanno sempre caricato quando ho avuto problemi bussato delle porte mi hanno sempre aperto veramente dall'Indonesia alla Russia c'è tanta bontà in giro c'è tanto da scoprire ti voglio fare una domanda Claudio un po' particolare che diciamo riguarda un po' una grande difficoltà che abbiamo noi viaggiatori magari anche in bicicletta con i visti come si fa cioè nella tua esperienza perché tu hai passato anche dei paesi appunto ho detto un po' problematici dal punto di vista del visto la tua esperienza da questo punto di vista e magari anche quello che hai visto fare gli altri viaggiatori ma beh i visti è una regola che varia da nazione a nazione ci sono praticamente 3-4 tipologie di visto alcuni paesi li puoi fare online in internet e che è abbastanza facile è più che altro una rottura di scatole l'applicazione online perché devi fare le foto di un certo tipo eccetera però quelli online sei tranquillo alcuni li puoi fare l'ambasciata precedente tipo quello indiano l'avevo fatto in Birmania quello della Birmania l'avevo fatto in Thailandia quindi all'ambasciata prima del paese prima fai il visto altri li puoi fare in frontiera che è super facile e altri devi farli a casa tua e questo è il problema grosso tipo il Pakistan quando sono andato il visto potevi farlo solo in Italia essere un cittadino italiano infatti mi avevano rimbalzato la Cina adesso nel 2016 poi non so se è cambiato era diventato anche lì potevi ottenere il visto turistico solo nel tuo paese d'origine quindi ci sono queste quattro tipologie secondo me quando uno parte deve un attimino studiarsi il percorso capire io dico per me è stata una parte grossissima del viaggio cioè le ambasciate sapere dove sono i numeri presentarsi lì stai lì giorni e anche una spesa sì sì anche una spesa di tutto il viaggio di questi 4-5 anni in Asia secondo me un 1500-2000 euro di visti è una buona parte del budget è quella che ha inciso di più perché comunque è dei visti tutti indicativamente dai 50 ai 150 dollari ecco poi dipende dalla nazione dalla durata insomma dicevi che alcuni spediscono di trovare il passaporto a casa sì sì c'è per dire ho conosciuto gente dal Tajikistan voleva entrare in Cina le avevano chiusi volevano arrivare a Pechino in bici hanno mandato i passaporti in Francia dove hanno fatto il visto lì e glieli rispedivano però sono robe lunghe rischiose perché poi anche in Tajikistan magari ti danno 15 giorni ce la fai e poi devi uscire lì devi fare bene i conti io il viaggio in autostop ho avuto un po' di problemi di questo tipo quindi diciamo che comunque per concludere il visto è una parte fondamentale però immagino che poi anche con l'esperienza si capisce come funziona anche come rapportarti con i doganieri con le persone lì perché spesso gli devi mollare la mazzetta mi è capitato un 90 dollari lasciati lì in Turkmenistan al confine però del resto se non glieli davo devo chiamare la farnesina per tornare a casa cioè perché ah pure quindi ok diciamo che sei stato obbligato a farlo non è ovunque così naturalmente cioè certe nazioni sono più tranquille in Asia quelle del centro Asia sono un po' più ostiche ritorniamo al concetto che dicevi anche prima di cui parlavamo cioè bisogna saper parlare cioè non puoi metterti lì a fare guarda io l'italiano in vacanza che alza un po' la voce probabilmente cioè non esiste quando sono arrivato al confine Turkmeno dove non avevo ancora visto questa lettera che era un lascia passare il poliziotto ha preso il mio visto il mio passaporto stava guardando un film ha continuato a guardare il film per due ore e io sono stato in piedi davanti a lui due ore ho detto non faccio niente cioè non gli chiedo non era evidente che lui voleva tenermi a sfinimento ho capito ho capito però ho detto se io qui adesso o gli dico di sbrigarsi o gli chiedo cosa devo fare ho detto e sono stato due ore in piedi certo come un fesso però insomma poi così bisogna fare insomma poi me l'ha fatto anche questo fa parte del viaggio possiamo dirlo sì sì assolutamente torniamo adesso un po' a bomba sulla bicicletta e magari il bagaglio perché chi segue queste chiacchierate sarà anche magari curioso di sapere qual è la bicicletta che hai scelto che è molto particolare però c'è un perché sicuramente nessuno di voi scegherebbe con la bicicletta per viaggiare ok probabilmente neanche io però c'è un perché Claudio la scelta adesso ce lo spiegherà e poi il bagaglio che hai portato con te quindi partiamo a bomba dalla bici ok vai rivelacela magari state vedendo delle immagini le avete viste adesso nel video ma che bici è? allora la bici intanto l'avevo comprata in Cina insomma un po' informato sui criteri necessari per una bici per viaggiare in Asia quindi aveva i cerchioni 26 esatto quella è stata la prima roba che ho dovuto scoprire perché in Asia non hanno il 28 praticamente non esiste raga non esiste quindi avessi rotto avessi bucato o rotto qualcosa non c'è via a camera d'aria fondamentalmente esatto quindi l'ho dovuto comprare 26 tante persone mi hanno consigliato cerca di trovarla senza freni a disco perché se li rompi ripararli è impossibile invece un normale V-brake funziona ancora lo faccio da solo quindi la bici per un viaggio così secondo me deve essere il più facilmente riparabile possibile cioè io parlo di viaggi dove c'è poca densità abitativa poi se uno fa un cicloviaggi in Europa è un'altra cosa esatto trovi un ciclista ogni città sei a posto lì dove magari hai 5-6 giorni senza villaggi e devi essere in totale autonomia secondo me deve essere super facile da riparare resistente perché secondo me a discapito della prestazione è meglio che non si rompa anche i copertoni che avevo erano copertonacci cinesi di pessima qualità ma non ho mai bucato cioè mai? mai in 8.000 chilometri? no io avevo dei copertoni in dotazione su quella bici ho bucato 4 volte nel primo mese nei primi 1000 chilometri che ho detto beh è anche ragionevole ho la bici piena sono arrivato a Rumci che è l'ultima città cinese di questa provincia prima del Kazakistan sono andato da questo ciclista lui era sordomuto infatti ci siamo capiti e gli volevo prendere degli Schwalbe ho detto spendo un po' però prendo il top e lui mi fece gesto no Schwalbe no Schwalbe mi ha dato questi cinesi Rhinos Rhinos e io ho detto chissà ho pagato 5 euro due copertoni ok e lì ci ho fatto da Rumci a Milano quindi 7500 chilometri senza mai bucare e vive Rhinos sulle strade io ho detto adesso inizio a portarli ok ti giuro mai sentiti ok 7500 chilometri su strade tremende brutte senza mai bucare bomba ma quindi questa ok tutte queste caratteristiche ovviamente tu non viaggiavi in bicicletta era anche un po' la tua prima esperienza tipo Schwalbe li sapevo per quando chiedevo agli esperti esatto la Schwalbe vai sul sicuro poi non avevo molte nozioni avevo studiato un pochino ecco una fortuna che ho avuto è stata questa sembra però sono i casi della vita quando sono partito da Golmour per tornare in Italia appunto in bici il giorno prima di partire mi ha investito un ziano cinesi io ero fermo al semaforo avevo verde in Cina è buon costume comunque controllare perché passano spesso col rosso ci siamo guardati quindi ho detto boh ma visto posso passare ho verde mi ha visto e invece mi è venuto addosso avevo un tre ruote era un cinese musulmano quindi barba lunga cappellino e io lì per lì mi sono anche un po' arrabbiato e ho detto cavolo domani devo tornare in Italia in bici e tu me l'hai rotta mi hanno investito con la bici che ho appena preso mi aveva piegato il cerchione per fortuna in quella città ho trovato un ciclista che mi ha cambiato il cerchione e me l'ha rirraggiato e io grazie a quell'incidente ho imparato a raggiare come si raggia la bici che non è male che non è male soprattutto per quello che ti è successo poi che c'è detto io non avevo il tirerraggi per dire quando ho visto lui fare queste cose che col tirerraggi ho detto lo compro dammi un tirerraggi che sicuramente mi servirà perfetto e infatti poi nel proseguo del viaggio quando rompevo i raggi davanti riuscivo a cambiarli io e lì se non mi avesse investito sto vecchietto probabilmente non avresti saputo raggiare e quindi e quindi perché quelli dietro dovevo per forza andare a un ciclista perché non riuscivo a smontare il pacco pignoni quelli davanti non puoi portartela dietro quelli davanti quando mi è capitato un paio in azerbaijan li ho sistemati io quindi ma c'è anche il caso della vita sì sì bicicletta in acciaio tra l'altro con il manubrio classico normale sì sì ok freni abbiamo detto v-brake o caliper comunque con le pattine qualche altra accortezza per viaggiare in posti così rispetto alla bicicletta no direi anche i rapporti comunque sono abbastanza semplici ho visto non è sì sì niente di estremo non è che l'hai pagata la bicicletta 200 dollari l'avevo pagata che per la Cina sono tanti o sono pochi diciamo che ma è normale cioè ok comunque la cosa è che la ditta è lì a Guangzhou quindi l'ho comprata proprio dalla loro ditta sì 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 io fossi in te chiederei una sponsorizzazione eh sì dovrei ma invece per quanto riguarda i bagagli come li trasportavi e era il tuo primo viaggio diciamo tutti nel primo viaggio portiamo sempre la roba in più a te è successo e come te la sei gestita? avevo cose in più in realtà sono stato anche abbastanza bravo comunque avevo esperienza da altri viaggi avevo la sfortuna di viaggiare sia in estate che in inverno quindi dovevo avere per l'evenienza anche col freddo che ovviamente è una roba più ingombrante però sì primo mese ogni volta che mi fermavo iniziavo a leva questo leva quello e siccome poi lì è anche faticoso ero arrivato a un punto avevo un paio di libri man mano che leggevo il libro strappavo le pagine e buttavo via no vabbè sto malverente spezzare lo spazzolino per avere solo la parte finale questo è geniale ci sono degli ultracyclist o atleti endurance che sarebbero molto fieri di te Claudio eh ma sai comunque quando devi farti passi a 3-4 mila metri senza assigeno è vero anche 2 kg in meno fa la differenza d'accordissimo al 100% bene rimaniamo allora su bici e bagaglio c'è una domanda che io faccio sempre che è molto interessante fondamentalmente serve per rubarvi segreti tipo questo di spezzare lo spazzolino dimmi due oggetti che non possono mancare nel tuo bagaglio da viaggio uno deve costare meno di 100 euro e l'altro meno di un euro ok bagaglio compreso tra bicicletta e tutto quello che avevi con te compresa la tua persona allora meno di un euro potrei dire il tiraraggi alla fine che con pezzettini di metallo si mi ha abbastanza salvato grazie al cinese che sicuramente sta guardando questo video mi salutiamo che hai aiutato Claudio a imparare a raggiare quello il tiraraggi mi ha dato una gran mano e meno di 100 euro il coltellino svizzero ti dà sempre un sacco e poi in questo viaggio ho imparato anche proprio l'importanza della frontale perché è vero che sembra una roba i primi viaggi col fatto che ero un autostop o mezzi pubblici non avevo così bisogno di autonomia invece spesso beh se poi usi la tenda l'ho imparato anche a mie spese ragazzi la frontale che è la torcia frontale quella no classica che si mette con una una banda elastica però vi aiuta vi aiuta veramente tanto quindi ok altra domanda classica che faccio un po' a tutti 8 metri, 100 km sono tanti tu hai attraversato non il mondo ma quasi un continente intero e anche una parte d'Europa dimmi il cibo più strano e il cibo più buono che hai mangiato in questi 6 mesi di viaggio allora il più strano degli insetti in Cina che capita non meglio identificati o? no erano dei bacchi da seta penso che era bozzolo fritti però dentro era abbastanza succoso fritti fritti è buona anche la ciabatta eh ma dentro era strano eh non è andata bene ok e quello più buono invece che hai detto no devo portarlo in Italia eh ma aveva ospitato una ragazza in Kazakistan da Trau tra l'altro le ragazze kazakie sono parecchio carine ma aveva fatto stufato di cavallo carne di cavallo ok e io una carne così buona mai eh non l'ho mai mangiata veramente era pazzesca infatti mi fermo qua però e poi sei ripartito eh il viaggiatore è così ragazzi ogni tanto ti viene voglia di fermarti ma poi alla fine si riparte sempre Claudio allora siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata però io ti ho invitato molto volentieri anche per parlare del tuo progetto perché tu hai un progetto legato al tuo viaggio che secondo me è molto bello e che magari può interessare a tutti quelli che stanno guardando per scoprire di più su sul tuo viaggio magari invogliano anche a seguirti quindi qual è l'iniziativa che stai portando avanti raccontacela per bene ma dunque io quando ho scelto di tornare in bicicletta era in quel momento ero da 4-5 anni in Asia già quindi volevo restituire qualcosa all'Asia e quindi ho deciso insieme al viaggio in bicicletta di aprire una raccolta fondi per un orfanotrofio si è chiamata Shorfan School ed è un orfanotrofio di Kathmandu e che eri con dei bambini tibetani per quello ho deciso di partire dal Tibet e niente durante la pedalata avevo aperto una pagina Facebook e un profilo Instagram che si chiamano vagabondiario dove la gente io avevo lavorato non avevo bisogno di sponsor avevo detto anziché sponsorizzare me per questo viaggio sponsorizzate l'orfanotrofio questo orfanotrofio aveva due caratteristiche che mi interessavano era gestito da un lama quindi non da un occidentale volevo una struttura gestita da un asiatico ed è gemellato con un'associazione l'associazione culturale tibetana in Italia e quindi è un conto in banca italiano quindi la gente poteva fare le donazioni direttamente a loro questo mi sgravava da problemi perché lo prende meglio cambiare e abbiamo raccolto una bella cifra sui 3.000 euro che ne pare tanto poi mentre pedalavo ho detto ma perché non raccolgo un po' tutti gli aneddoti del viaggio così e ho raccolto gli aneddoti ho scritto un primo libro che si chiama Vagabondiario i cui proventi sono appunto per l'orfanotrofio è disponibile su Amazon e abbiamo raccolto ho fatto un bonifico qualche giorno fa abbiamo superato abbondantemente gli 8.000 euro che in Nepal insomma non male un professore lo fa un maestro lo pagano 100 dollari al mese quindi abbiamo pagato sono tanti stipendi complimenti Claudio però appunto tu adesso stai ripartendo tra l'altro riparti tra pochissimi giorni quindi sei super lì per ripartire e questo tuo nuovo viaggio servirà appunto anche per sponsorizzare nuovamente la tua raccolta fondi esatto un po' un po' quella un po' adesso ho scritto anche altri libri che mi aiutano a me a vivere e sì l'idea adesso è proseguire il giro del mondo insomma dal Tibet a Milano adesso vorrei provare arrivare sulla costa atlantica in bici e poi vediamo in base alla pandemia mondiale come sarà la situazione in Africa o Sud America vedo un po' quindi è un po' un no plans journey cioè nel senso sì sì sono molto cioè veramente so di arrivare a Capo di Finisterre Portogallo e poi quello che arriva arriva insomma e la bicicletta è la stessa la bici è la stessa la bici è la stessa ragazzi è pazzesco molto bello questa cosa che da viaggiatore in bicicletta cioè non posso che dire wow perché appunto Claudio non conosceva la bicicletta tu hai viaggiato in tanti modi diversi hai detto però hai scoperto la bici e comunque questa cosa rimane quindi questo magari vuole essere un incentivo a provare se non avete mai provato a utilizzare la bicicletta perché veramente è un altro modo di viaggiare come dicevi anche tu prima quindi molto interessante grazie Claudio per aver raccontato l'esperienza grazie grazie di tutto vi ricordo che trovate il libro per sostenere la raccolta fondi e anche la raccolta fondi la trovate sui social di Claudio ci ridici un po' la tua pagina ma la pagina facebook è vagabondiario e poi ho il profilo instagram Claudio Piani che è il mio profilo personale dove posto le storie anche un po' di robe su bici e viaggi ok andate a seguire Claudio quindi a me non resta che ringraziarlo nuovamente vi saluto qua vi lascio e noi però continueremo a seguire Claudio perché lui ha appena iniziato a viaggiare io sono curioso di vedere dove arriverà perché verso ovest l'hai già fatto ti tocca fare ovest quindi Claudio alla prossima grazie infinite buon viaggio grazie ciao bocca al lupo grazie a tutti